In questo video ci occupiamo di risolvere un integrale definito tramite il metodo per sostituzione. Consideriamo, ad esempio, questa integrale. L'integrale tra 0 e 2 di x è alla x quadro in dx. Osserviamo che un prodotto, la funzione integrande, è un prodotto di funzioni, x è alla x quadro. Osserviamo, inoltre, che la derivata di x quadro è 2x, quindi che è molto simile a questa funzione a meno di un fattore 2. Per cui possiamo, in maniera del tutto equivalente, scrivere il nostro integrale di partenza come 2x è alla x quadro in dx. Dal momento che abbiamo moltiplicato per 2, dobbiamo anche dividere per 2. A questo punto siamo invitati a introdurre una nuova variabile, t, che poniamo uguale a x quadro. Effettuiamo la differenziazione, quindi avremo dt, poiché la derivata di t rispetto a t è 1, uguale alla derivata di x quadro, cioè 2x, in dx. Osserviamo che la nostra scelta precedente ci fornisce immediatamente il valore dt. A questo punto possiamo scrivere il nostro integrale di partenza come nella nuova variabile t. Quindi avremo l'integrale di e alla t in dt. Punto fondamentale, dobbiamo determinare il valore degli estremi nella nuova variabile t. Allora, prendiamo come riferimento questa sostituzione. Quindi, se x è uguale a 0, allora t è uguale a 0 al quadrato, cioè 0. E abbiamo messo a posto il primo estremo, che andiamo immediatamente a scrivere. Consideriamo adesso il secondo estremo, x uguale a 2. Quindi, se x è uguale a 2, allora t è uguale a 2 al quadrato, cioè 4. E abbiamo messo a posto anche il secondo estremo, che andiamo ancora una volta immediatamente a scrivere. In questa nuova variabile l'integrale è immediato, ed è in particolare uguale ad e alla t, che dovremo andare a valutare tra 0 e 4. Quindi, andando a sostituire, avremo e alla quarta meno e alla 0, cioè e alla quarta meno 1. Osserviamo che, poiché abbiamo a che fare con un integrale definito, non dobbiamo ritornare alla variabile di partenza. Quindi, se volessimo riassumere questo metodo per sostituzione, per integrali definiti, potremmo definire i seguenti punti. Primo, definire la nuova variabile più opportuna. Secondo, differenziare il cambio di variabili. Terzo, determinare nel nuovo integrare gli estremi in coerenza con la sostituzione fatta. Quarto, ricordarsi di non tornare alla variabile di partenza. Nel nostro caso, l'integrale tra 0 e 2 di e alla x quadro in dx è uguale quindi a e alla quarta meno 1, che è uno scalare. Iscriviti al nostro canale. Grazie a tutti